Allora, dicevamo appunto, ci sono delle questioni, siccome tra l'altro il Presidente è esperto in materia anche finanziaria, vediamo anche di affrontare il discorso dei tassi di interesse per i mutui eccetera, i consigli che si possono dare, perché poi ci sono persone che si sono imbarcate nell'acquisto anche della casa, come è giusto che sia, ma adesso hanno anche dei timori e degli investimenti relativi. Vediamo di leggere un messaggio, il maggior costo dell'energia è al 90% solo speculazione, noi siamo soggiogati da queste aziende di acquisto senza dire e fare niente, è quello che diceva lei, purtroppo sono delle situazioni paradossali, ma non solo il costo dell'energia, secondo me anche in altre situazioni c'è speculazione, inutile dirlo. Primo ottobre, data fatidica, sono stati annunciati questi aumenti spaventosi, fino a ottobre verrà dato l'aumento anche del, adesso c'è stato il gas, cosa cambia il primo ottobre per quanto riguarda l'energia elettrica, poi ci sarà il gas, se non sbaglio, fino a ottobre. Ci dica. Sì, naturalmente il primo di ottobre coincide con il trimestre successivo, abbiamo visto che la RERA, che è l'autorità per la gestione appunto anche dei prezzi, però qui faccio una precisazione del mercato tutelato e quindi aggiorna i prezzi del gas e dell'elettricità e sicuramente abbiamo già visto e constatato che ci saranno dei forti aumenti, questo qui si ripercuoterà sui consumatori. Però sul mercato tutelato, lei ha detto mercato di tutela, giusto? Sì. Perché l'altro mercato invece, quello di non tutto libero? Allora, il mercato libero, qui dipende dai punti di vista, adesso senza voler sponsorizzare un metodo o l'altro, il mercato tutelato significa che l'autorità garante ogni tre mesi valuta il prezzo del gas con la media dei prezzi giornalieri, quindi la media dei prezzi giornalieri del periodo antecedente e poi stabilisce il prezzo da applicare alla materia prima, ma solo alla materia prima, quindi le altre spese che sono relative alla gestione del contatore, al dispacciamento, al trasporto, sono uguali per tutti e due i mercati, sia quello tutelato che quello libero. Nel mercato libero, naturalmente, ogni fornitore decide in base alla sua politica commerciale il prezzo da applicare e quindi non c'è, come dire, una sorveglianza istituzionale che in qualche modo lo regola, potrebbero esserci contratti più favorevoli, meno favorevoli, qui bisognerebbe conoscere i prezzi di ogni singolo fornitore. Diciamo che sul mercato libero bisognerà e bisogna stare attenti sostanzialmente a quelle che sono le offerte, quanto dura questa offerta, perché un fornitore che applica il mercato libero potrebbe essere anche interessato per entrare nel mercato, di fare dei prezzi convenienti. Allora, sul mercato libero, ripeto, è importante valutare l'offerta, se è vantaggiosa, quanto dura l'offerta e eventuali penali se un domani decidi di abbandonare l'offerta, cambiare gestore. Queste sono le tre componenti più importanti da tenere. Ma le penali sono ammesse? Sì, sono ammesse, certo. Se tu sottoscrivi un contratto per una fornitura per due anni e questa fornitura prevede una certa agevolazione nell'arco di 24 mesi e quindi il fornitore ti dice guarda, io ti fò questo prezzo ma tu devi rimanere con me per 24 mesi. se tu lo rescidi prima, la parte di, come dire, il ratio che tu non hai utilizzato, del beneficio che non hai utilizzato, il fornitore te lo fa pagare come penale. Lui si era impegnato per un certo periodo. No, infatti no, perché appunto se l'ha parlato di alcune volte, in alcune situazioni che le penali venivano, non erano più ammesse, però dipende appunto dalle situazioni. No, è certo, se sono contrattualizzate in questi termini. Questo parametro. Vediamo un altro messaggio che è arrivato, parliamo di europeismo quando poi ogni Stato pensa a se stesso, vedi Germania con le tariffe del gas e ostacola il prezzo massimo, allora è meglio essere sovranisti. Vi farò il contro perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte, se si è piccoli e non troppo forti. Ecco, bisogna certamente cercare anche di tutelare il proprio Stato, eccetera, però bisognerebbe che gli altri rispettassero anche le regole dei giochi collettivi quando ci sono, no? No, qui bisogna, qui un pochino bisogna essere crudeli ma bisogna dire la verità, c'è poco da fare. Allora, la Germania mette sul piatto 200 miliardi per andare incontro ai cittadini e alle imprese e quindi calmerare in qualche modo i prezzi del gas e dell'elettricità perché se lo può permettere e perché se lo può permettere. Ce lo siamo detti perché vent'anni fa la Germania ha cominciato a fare quelle riforme che noi non abbiamo mai voluto fare, quindi la riforma del lavoro, la riforma del fisco, la riforma del catastro, la riforma della burocrazia, potrei andare avanti e quindi entrare nei dettagli. Allora, questo per dire che a me piacciono i tedeschi, no, non tanto perché spesso giocano sporco, però come paese sicuramente ha messo in atto e in campo tutte quelle iniziative, quei provvedimenti e quelle riforme che oggi la fanno essere un paese molto più forte del nostro perché molto meno indebitato. L'Italia purtroppo è un popolo di ricchi in un paese molto povero e anche questo dobbiamo dircelo quando diamo gli aiuti. Allora, perché noi non abbiamo fatto la riforma per esempio del fisco e del catastro? Faccio un esempio banale, se qualche politico dice signori è necessario fare la riforma del catastro, bene, perché? Perché ci sono delle abitazioni importanti lussuose che pagano pochissimo, ci sono dei quartieri popolari che in proporzione pagano molto di più. Inoltre ci sono 2 milioni di abitazioni in Italia, interi condomini che non figurano al catastro e non pagano nulla. Allora, poi c'è il politico luminare che non so dove studiano queste cose, che dice vabbè, no, non facciamo la riforma del catastro perché mettiamo le mani in tasca ai contribuenti. Quali contribuenti? che c'entrano i contribuenti? Molte persone, io per esempio, pago puntualmente tutte le tasse, allora se ci sono delle persone che non pagano le tasse e c'è qualcuno che vorrebbe porvi rimedio, dove sta il problema che rubiamo i soldi ai cittadini? Ho fatto questo esempio per dirle, la Germania una cosa del genere non la tollererebbe mai. Quando sento parlare in televisione, rottamiamo le cartelle esattoriali. Ma qualcuno è andato a vedere dentro le cartelle esattoriali cosa c'è? Cosa c'è? La ruberia? I 9 cartelle su 10 sono tasse non pagate. Allora siccome in questo paese c'è chi le tasse le paga sempre, sempre, non evade, mi direte, perché non possono, vabbè, ci sta anche questo. Però perché rottamare le cartelle esattoriali che fanno riferimento a tasse e contributi non pagate? Sono condoni, sono premi, sono regalie a chi non ha pagato le tasse. Ci saranno quelli che non hanno potuto pagare? Benissimo, ma ce ne sono molti che aprono una società, dopo 18 mesi la chiudono, non versano neanche una lira di IVA, perché il controllo nei primi 18 mesi non lo scatta, e ne aprono un'altra con un altro nome. Molti di questi sono anche stranieri. Sì, certo, questo lo sappiamo, infatti. E questa è una realtà. Questo è vero. È vero anche che noi abbiamo un sistema fiscale terrificante però, perché se tu parli uno straniero, ma qualsiasi paese, ma io l'avevo visto, trasversalmente anche in Europa, della tassazione che c'è da noi, non solo dei beni di consumo, dei servizi, dico, ma anche il fatto stesso, prendi l'autostrada. Cioè, ragazzi, costa l'autostrada, chiamiamola che sia una tassa, devo pagare il bollo auto, è una tassa, la revisione dell'auto, che viene fatta formalmente, ma questa è un'altra tassa. Cioè, ho fatto degli esempi, ma noi è tassato tutto, tutto, qualsiasi cosa, bene, servizio, non è che noi abbiamo l'autobus gratis, no, lo devi pagare, l'abbonamento, è un servizio che non è neanche completo, non entriamo nel merito, anche se siete stati invocati anche sul giornale quest'oggi per quanto riguarda i servizi pubblici per cercare di porre un rimedio, nella fattispecie c'è la Padova, no, degli autobus, perché diventa esasperante, ma qualsiasi cosa la paghi e sei fuori dalle logiche della comprensione umana, c'è una famiglia, lavora per pagare le bollette, le tasse, le sottotasse, l'IVA e quant'altro, ma chiedo, in una situazione di questo tipo di grandissimi aumenti, in cui lo Stato è in camera anche di più, perché comunque non è che ha, voi auspicate la riduzione dell'IVA, no, sui beni di consumo generici come anche gli alimenti, non è che ha abbassato, ridotto drasticamente l'IVA, più o meno è rimasta tale, incassa di più, incassa di più sui carburanti che fino al 17 ottobre sono ancora calmerati, poi fino a ottobre incominciano ad aumentare e quindi non sarebbe corretto che destinasse immediatamente dei finanziamenti per tamponare questi aumenti oppure ridurre drammaticamente altre accise e l'IVA? È un discorso complicato, vediamo di fare un po' di ordine, allora il nostro paese non ha le materie prime, quindi le deve acquistare, quindi difficilmente il nostro paese si arricchisce con le materie prime, semmai sono i grandi grossisti e le multinazionali che in momenti come questi, dicevamo, per i motivi che abbiamo elencato prima si arricchiscono, il nostro paese purtroppo si impoverisce, noi credo che abbiamo 1800 miliardi o abbiamo superato 2000 miliardi di debito pubblico, bene, questo è un debito pubblico che viene fatto ormai da decenni da classi politiche di destra e di sinistra per la spesa corrente, non per gli investimenti, ecco cosa ci rimprovera all'Europa e quando vediamo che l'Europa qualche paese prende l'iniziativa e va da sé, è perché non ha più fiducia nel nostro paese, dice se questi continuano a proteggere, chi guadagna parecchio è farli pagare poco o gli evasori o non fanno le riforme che servono, noi non possiamo stare dietro all'Italia e condividere sempre i suoi disagi quando determinati provvedimenti non sono stati presi. Poi sì è vero ci sono i multinazionali, i grandi grossisti che si arricchiscono in queste situazioni, tant'è che mi sembra il governo Draghi aveva anche intrapreso l'idea di dover tassare gli estra profitti, certo che vanno tassati gli estra profitti e magari anche con aliquote pesanti perché è un surplus fuori da ogni norma e che magari quegli estra profitti potrebbero essere utilizzati per aiutare veramente coloro che hanno bisogno e qui di nuovo bisognerebbe essere in grado però di intercettare veramente quelli che hanno bisogno perché gli aiuti a pioggia, se voi ricordate il governo Conte a suo tempo fece un bonus, un aiuto di 600 euro a pioggia, quindi questi andavano alla piccola attività individuale che aveva grossa difficoltà come al professionista che aveva uno studio aperto da 20 anni che era milionario, a domanda, io li ho incontrate queste persone, gli ho detto ma scusa, ma tu che hai una posizione economica così solida, perché hai fatto richiesto del bonus? La legge me lo consentiva, perché non dovevo farlo, non sono mica più fesso degli altri. Alcuni esercizi commerciali nel periodo della pandemia hanno triplicato il fatturato, adesso non facciamo nomi perché qui magari in televisione non è corretto e perché magari non si può sempre generalizzare, hanno triplicato il fatturato, puntualmente hanno fatto tutti domanda per il bonus di 600 euro che non serviva a niente, questa è anche etica, serietà. E da noi questa viene a mancare un po'. E da noi è così. Sì, infatti è vero. E non ne veniamo fuori. La cosa che mi ha colpito, per esempio in Germania, non ci sono i tornelli per entrare nella metropolitana, paghi in tot al mese, nessuno controlla perché c'è l'onestà, non ci si mette neanche in discussione che tu non paghi. Da noi, se vai nelle grandi città, Roma, Napoli, i tornelli si saltano, nessuno dice niente. E il controllore c'è, ma chi gliene frega? Infatti. Lui lo stipendio lo prende ugualmente. Eh, infatti purtroppo è andato di fatto questa cosa qui. Allora, adesso c'è la pubblicità, poi volevo appunto il discorso dei tassi di interesse che aumentano e cosa succede se la BCE aumenta i tassi di interesse. Abbiamo anche una slide di supporto. Pubblicità.